Si rinnova l'appuntamento con il Toscana Gospel Festival. Qual è il programma per quest'anno? Allora, quest'anno, nonostante la crisi, devo dire che il festival continua ad essere il festival di sempre. Quindi ci saranno 13 appuntamenti in tutta la regione toscana, perché è bene ricordare che il livello, questo festival ideato, pensato e realizzato prima in provincia di Arezzo, poi si è stesso a tutta la Toscana, fino a diventare comunque il festival più importante in Italia. Nel nostro territorio ci saranno 7 appuntamenti nelle varie vallate, sia nelle chiese, nei teatri, ma anche lungo le vie. Quindi sarà un grande momento di festa dove, e bisogna dirlo, questo genere musicale appassiona tutti gli amanti della musica in generale, e anche i non amanti della musica in tutte le età, dai giovani ai meno giovani. Quindi è anche per questo che la provincia, nonostante le difficoltà, ha voluto rinnovare il suo impegno a sostenere questo grande evento che è anche un grande esempio di collaborazione pubblico e privato e quindi di come la cultura vada sostenuta e debba essere giustamente anche incanalata per poter continuare a sopravvivere. Questo è un festival che è partito grazie all'Officina delle Culture e che nel tempo sta riscuotendo sempre un maggiore successo. Sì, siamo appunto a 18 anni di festival. In questi anni hanno partecipato al festival qualche migliaio di musicisti e cantanti. In particolare il primo appuntamento è il 16 in pomeridiana. Quest'anno abbiamo inserito degli appuntamenti pomeridiani lungo le vie del centro storico, quindi ad Arezzo. E poi il festival andrà a Sansepolcro, a Montevarchi, a Lucignano, ancora ad Arezzo in serale al Teatro Mecenate. E poi l'ultimo appuntamento nella nostra provincia sarà a Cortona il 27 dicembre al Teatro Signorelli. Ho continuato a sostenere da sempre il... Il...